Musica Cari incerini con il 2020 da dimenticare sulla ritiro L'abbiamo avuto con noi questa mattina a telefono E non mancheremo ancora di risentirla perché ci va veramente piacere Il sapere che questo 2020 si è levato a poco davvero Anche nella prossima ora Resto con tutto il meglio della settimana